Prima di cominciare ad analizzare le singole opere di Hugo Foscolo è opportuno andare a verificare le idee in ambito di visione del mondo e di politica che Foscolo ha e come soprattutto queste idee trovano la loro forma scritta quindi nella poetica di Hugo Foscolo. Andiamo quindi con ordine, in questa video lezione noi ci interesseremo alla visione del mondo di Foscolo, poi passeremo a analizzare la sua ideologia soprattutto in ambito politico e poi successivamente vedremo come queste idee sul mondo e le sue idee sulla politica trovano la forma nelle sue opere scritte. La produzione di Foscolo parte da due elementi importanti che potrebbero in qualche modo apparire in contraddizione, da una parte il razionalismo e dall'altra il pessimismo, nel senso che se per razionalismo noi intendiamo quel trionfo della ragione su tutte le cose come la volevano appunto gli autori luministi, ecco notiamo che i due termini possono essere in contraddizione perché appunto per Foscolo non c'è questo trionfo assoluto della ragione, per cui possiamo dire che Foscolo è uno degli autori della letteratura di questo periodo che meglio di altri riesce a armonizzare alcune istanze che vengono naturalmente dall'illuminismo con altre che li derivano o dal Gian Battista Vico oppure da Thomas Hobbes e anche in questo caso procediamo dalle prime riflessioni in ambito illuministico. L'illuminismo appunto si caratterizza per questa ragione che deve sgombrare le tenebre del pregiudizio e deve portare luce nelle menti appunto di tutti, in maniera kantiana questa ragione che si deve porre insomma ad arbitro di tutta una serie delle situazioni, dei pensieri e riflessioni che l'uomo deve fare. Diciamo che il razionalismo che arriva tramite l'illuminismo Foscolo è un razionalismo che è strettamente legato a una filosofia materialistica e meccanicistica allo stesso modo, cioè nel senso che Foscolo rinnega qualsiasi idea di essere superiore, esterno alla natura che possa in qualche modo dare senso e organizzare e quindi dare razionalità al mondo stesso. E quindi in questo senso naturalmente Foscolo sfrutta, utilizza il concetto di razionalismo come quel principio legato a un ordine immanente materialista e meccanicista. Quindi partendo appunto da queste due riflessioni possiamo affermare che nella riflessione foscoliana ogni elemento della natura e quindi compreso l'uomo è fatto di materia. Questa materia è soggetta quindi a un processo continuo di trasformazione. Per giunta questa materia all'origine naturalmente questa materia e quindi tutta quanta la natura risulta essere una macchina perfetta ma non governata da nessuna forza trascendente ma governata da leggi meccaniche appunto. Da qui il materialismo meccaniche appunto la visione del mondo, il primo tassello di questa visione del mondo che Foscolo fa sua, compendiando quindi quel razionalismo tipico dell'illuminismo che appunto lo porta a cercare di capire la realtà che lo circonda attraverso le stesse leggi insite in questa realtà e ovviamente abbracciando una filosofia che naturalmente non nasce nell'illuminismo ma molto prima ma che l'illuminismo fa in gran parte sua quella del materialismo meccanicistico. A questa visione materiale e meccanicista Foscolo aggiunge anche l'interessante riflessione che fa Gian Battista Vico. In particolare Foscolo ricava da Vico due interessanti sue riflessioni, la prima sulla storia, la seconda sulla funzione della poesia. Lasciando naturalmente un'altra parte di questa videolezione, il secondo elemento, cioè la riflessione sulla funzione della poesia, più in generale della funzione della letteratura, ci soffermiamo ora a riflettere sull'idea ciclica della storia che Foscolo riprende da Vico. Secondo Vico e quindi Foscolo ovviamente che segue questa indicazione, il cammino di tutta l'umanità è caratterizzato da una serie di epoche, e quindi fasi di questa umanità. Ma a differenza naturalmente dell'illuminismo che pure concepiva una storia fatta di tappe, ma che poi riteneva che l'ultima tappa, cioè l'oro, il Settecento, l'illuminismo, fosse appunto la tappa da cui non si poteva più tornare indietro e quindi maturava un'idea di una storia in continuo progresso, Vico invece pur accettando l'idea, quindi facendo solo l'idea di una crescita naturalmente delle tappe del percorso dell'uomo su questa terra, riteneva che al momento della terza età ci potesse essere, anzi c'era, un ritorno indietro alla prima età. Partendo quindi dal presupposto che qualsiasi cosa che l'uomo può conoscere, questo qualcosa deve essere fatta dallo stesso uomo, e quindi verum ipsum factum, cioè solo la storia che è evento dell'uomo, può essere conosciuta pienamente dall'uomo, partendo da questa riflessione appunto vichiana, ecco che Vico stesso propone la successione di queste tre età, in una prima età caratterizzata da una umanità primitiva, bestioni sono le riflessioni appunto che fa Vico questi uomini, i quali sentono senza avvertire, quindi è un grado zero di vita, insomma, che soddisfa solo i bisogni primari. A questa prima età subentra una seconda età che è caratterizzata dall'inizio della civiltà, in cui gli uomini sentono con animo perturbato e commosso, e quindi le prime leggi, e soprattutto quello che in questo momento interessa anche in maniera specifica, Foscolo, e che poi interesserà Foscolo per esempio, nella sua riflessione, Carme dei sepolcri, la poesia diventa l'elemento che caratterizza appunto questi uomini, che non sono più bestioni, che questa volta sentono, ma sentono facendosi appunto commuovere dalla forza e dalla potenza della poesia. Si arriva poi a una terza età, che è appunto l'età della ragione, nella quale questi stessi uomini riflettono questa volta con mente pura, è l'età della filosofia. In questa terza età però, dice Vico, a un certo punto si possono riconoscere dei segni che ci fanno capire che la terza età avrà un fine e che questa terza età porterà l'uomo a una situazione di globale crisi, tanto da poter appunto riscontrare già le prime tracce di un ritorno della prima età. E quindi con Vico abbiamo un'idea ciclica della storia, cioè di questa età che continuamente tornano a distanza naturalmente di periodi storici che possono essere più o meno lunghi. Da Hobbes invece Foscolo ricava un'interessante riflessione che il filosofo fa nel rapporto tra l'uomo e la società. L'uomo, secondo Hobbes, in uno stato di natura rischia di essere coinvolto e mettere a repentaglio la sua stessa vita perché in questo stato di natura ogni uomo riclama i suoi diritti naturali come il diritto alla vita per esempio e dovendo l'uomo rimanere sempre in un stato di natura questa situazione potrebbe nel giro di poco volgere appunto contro l'uomo stesso perché naturalmente ogni uomo penserebbe soltanto al proprio mantenimento in vita. Ecco che, afferma Hobbes, a un certo punto l'uomo decide di scendere a patti quindi costituire uno stato civile con questo stato civile stabilire appunto un contratto e quindi delegare una parte delle proprie libertà a questo stato civile in nome naturalmente della sopravvivenza. Quindi da uno stato di natura in cui ogni uomo rischia di essere un lupo per l'altro uomo si arriva a uno stato civile in cui praticamente l'uomo, diventato cittadino delega allo stato i propri diritti naturali. Questa riflessione obbesiana viene fatta propria da Foscolo il quale ritiene che l'uomo senza la guida di una legge o di uno stato tende a perseguire soltanto il proprio interesse e soprattutto ovviamente questo interesse viene perseguito a scapito, a danno degli altri e questo ovviamente generando come appunto affermava Hobbes una situazione che di di a poco diventerebbe ingestibile. E' certo una concezione questa obesiana fortemente pessimistica nel senso che l'uomo non riesce a scommettere sulle proprie capacità e deve delegare ad uno stato le proprie libertà quindi alcuni diritti suoi fondamentali. Questo disegno obbesiano propone ovviamente una società in cui c'è un forte pessimismo nei confronti appunto delle capacità dell'uomo stesso. A questo pessimismo di fondo Foscolo reagisce attraverso una serie di illusioni che noi incontreremo in tutte le opere foscoliane dalle ultime lettere a Coportis fino al Carme dei sepolcri e alle Grazie passando naturalmente dai suoi sonetti e dalle sue poesie. Si tratta naturalmente di illusioni Foscolo sa perfettamente che si tratta di illusioni quindi anche di sentimenti irrazionali ma sono quelle illusioni che riescono a mantenerlo in vita e queste illusioni come appunto l'idea della terra che è madre l'idea della natura l'idea della patria gli affetti familiari il sepolcro l'amore l'amicizia collegata alla capacità di compassione l'aspirazione alla gloria e la poesia non disgiunta dalla bellezza diventano un po' i temi trasversali che si possono incrociare in tutte le opere di Foscolo. E ora vediamo il capitolo che ha a che fare con l'ideologia foscoliana e ci spostiamo subito ovviamente in un ambito più strettamente politico anche se come è facile comprendere la riflessione sulla storia unita alla riflessione sull'uomo nella società ci portano automaticamente a questa slide diciamo che l'ideologia politica di Foscolo si caratterizza dalla sua forte attrazione verso gli ideali che arrivavano dalla rivoluzione francese le idee di libertà di uguaglianza e anche quella di fraternità che i giacobini appunto e non solo loro andavano sbandierando per le vie di Parigi queste idee appunto attraevano particolarmente un foscolo soprattutto l'uco foscolo che sappiamo non essere figlio di una famiglia benestante quindi socialmente con un ruolo ben chiaro all'interno della società ma Ugo Foscolo veniva appunto da una situazione difficile complicata abbiamo già parlato della fierezza della propria povertà a Venezia e quindi di fatto questi ideali i giacobini arrivando in Italia avevano un effetto dirompente in Foscolo era appunto quel riscatto sociale che Foscolo poteva ottenere attraverso appunto l'applicazione nella Repubblica Veneta o diciamo nel mondo in cui lui si trovava a vivere di questi ideali come appunto suo riscatto sociale vero e proprio a questa iniziale attrazione verso ideali i giacobini si aggiunge l'esaltazione di Napoleone ovviamente si tratta di un'esaltazione precedente la pace nell'accordo di Campoformo il 17 ottobre del 1797 perché dopo la riflessione Foscoliana diventa una riflessione un po' più cupa nei confronti di Napoleone ma diciamo anche un pochettino più complessa e quindi al giovanile alla giovanile esaltazione appunto di Napoleone subentra dopo a Campoformio una riflessione un po' più amara che è una riflessione anzitutto sulla storia quindi una riflessione che Foscolo fa propria anche diciamo incrociando il pensiero vichiano con quello di Hobbes nella storia quindi non c'è spazio per ideali ma c'è spazio solo per la logica della ragione di stato quindi in nome della ragione di stato Napoleone ha venduto Venezia all'Austria e quegli ideali giacobini di fatto secondo Foscolo vengono traditi certo questi ideali nella riflessione letteraria poi si trasformeranno in illusioni in alcuni aspetti ma comunque si tratta di un riscatto ormai impossibile a questa situazione insomma di riflessione pessimistica intorno alla storia si aggiunge anche un conflitto io mondo che rende molto più difficile la possibilità dell'intellettuale di trovare il suo spazio nella società borghese e quindi il conflitto io mondo diventa ovviamente un conflitto tra l'intellettuale e la società borghese una società disposta al compromesso disposta alla ragione di mercatura e quindi disposta anche in questo caso a fossare a mettere da parte gli ideali e naturalmente anche questo conflitto viene vissuto da Foscolo come tipico in Foscolo al suo massimo livello per cui l'autore riesce a trovare in queste riflessioni che fa dopo la pace Campoformio la sistemazione di un proprio pensiero fortemente pessimistico la società è corruzione ed è avidità di potere soltanto l'illusione e talvolta e temporaneamente possono in qualche modo distrarre tra virgolette l'intellettuale da questa situazione quindi il conflitto dell'uomo nella storia e dell'io nei confronti del mondo portano appunto Foscolo a un rapporto fortemente dicotomico di contrapposizione fortissima tra appunto il suo forte sentire da una parte e tutto quello che c'è appunto di là al di là appunto di di se stesso e quindi è chiaro che queste riflessioni che abbiamo visto portano naturalmente l'autore a una sorta di delusione storica che può riguardare tanto gli ideali Giacobini e quindi la rivoluzione francese in quanto tale quanto naturalmente Napoleone Bonaparte ma questa delusione storica non porta a un disimpegno politico e civile questo è molto interessante perché in situazioni come queste è più facile abbandonare tutto rinchiudersi appunto nel proprio mondo circondato comunque protetto dalle illusioni ritenere le illusioni la vera e propria vita e quindi confondere la vita da quello che possono essere invece piccoli contentini della vita stessa ecco l'impegno civile invece dell'intellettuale Foscolo è un impegno inalterato quindi Foscolo continuerà a portare avanti le proprie battaglie quasi in maniera titanica qui poi introduciamo un concetto che sarà tipicamente romantico ecco che per Foscolo la letteratura ha una evidente missione civile un'evidente missione civile perché la letteratura e qua riprendiamo naturalmente anche quel discorso sulla poesia che nasceva da Vicolo letteratura diventa un antidoto alla crisi dei tempi l'intellettuale cioè non si chiude nella sua torre d'avorio guarda in faccia i problemi discute riflette su questi problemi fa sentire la sua voce quando naturalmente è necessario ed è più forte di se stesso il caso per esempio dell'Ortis che è vero che si suicida ma si suicida nel momento in cui appunto non c'è più spazio per un'azione politica evidente quindi quando appunto finisce la missione politica dell'intellettuale di poter cambiare la società nello stesso tempo però la riflessione in natura civile e quindi anche politica rimane inalterata nelle altre opere in quelle opere diciamo che Foscolo scrive all'inizio del 1800 e cioè facciamo riferimento naturalmente allo spirito guerrier che dentro rugge dell'appunto poesia alla sera quando appunto si vede la volontà forte dell'autore di combattere contro il mondo di quindi per l'ennesima volta cercare di affermare ancora se stesso e soprattutto vediamo l'intellettuale che scrive il Carme dei Sepolcri il quale intellettuale parte da un fatto da un episodio probabilmente pretestuoso dall'editto di Saint-Clau per ovviamente non soltanto far sentire la sua voce in ambito di opportunità o meno seppellire i morti all'interno quindi delle aree urbane e più in generale sul mantenere o meno il nome nelle sepolture ma da questo primo spunto probabilmente ponemico l'autore il grande letterato amplia il proprio discorso verso una riflessione civilmente impegnata e di alto livello naturalmente che prende e riguarda tanti campi da quello delle civiltà a quello naturalmente della storia e poi anche al campo della poesia il tutto naturalmente messo insieme tutti questi temi sono tenuti insieme dalla forte personalità appunto di Ugo Foscolo che riesce a compendiare letture influenze che sembrerebbero e che probabilmente sono clamorosamente ossimoriche come Foscolo è riuscito a mettere insieme i classici antichi e quindi con diciamo l'influenza evidente del neoclassicismo a quello che possono essere le istanze del pensiero illuministico e dei preromantici beh in questo in questa operazione sta tutta la grandezza naturalmente di Ugo Foscolo dalle sue origini greche Foscolo ricava insomma questa passione per la letteratura greca prima o mero in particolare ma anche più in generale la letteratura antica a cui naturalmente unisce gli autori che lui impara a conoscere arrivando in Italia e si appassiona per diverse ragioni che poi andremo a analizzare nelle singole opere a Dante Petrarca in particolare naturalmente Foscolo è figlio del pensiero illuministico l'abbiamo già detto in questa video lezione è figlio di un razionalismo che è proprio del pensiero appunto del Settecento anche se ovviamente ha questo razionalismo che può sembrare un po' freddo Foscolo in parte in alcuni momenti sostituisce la forza delle illusioni quindi per questo Foscolo è anche molto vicino a tutti quegli autori che in qualche modo hanno anticipato il romanticismo pensiamo a Rousseau per esempio che è un intellettuale illuminista sì ma ad un illuminismo che ormai è al tramonto e si intravedono nelle opere di Rousseau già i primi elementi che saranno propri del romanticismo così come il Gaethe dello Sturmundrang oppure il Macpherson e ovviamente anche la poesia cimiteriale di Gray di Grazie a tutti.